ben ritrovati ben ritrovati carissimi amici nel mio canale questa volta non si tratta né di un video di sport né di calcio né della mia matissima juventus ma si tratta appunto il video dedicato al natale è natale quindi insomma auguri a tutti un ringraziamento particolarmente sentito a tutti i miei iscritti quelli che lo saranno anche in futuro per questo traguardo che ho raggiunto insomma il mese di ottobre dei 1000 iscritti quindi partire da zero e in meno di un anno riuscire a raggiungere questo traguardo è sicuramente un motivo di orgoglio per me quindi vando alle ciance oggi è natale auguri auguri a tutti e che sia un sereno e fantastico natale grazie